Attimi di paura Puglia frazione alle porte di Arezzo nella notte tra martedì e mercoledì poco dopo la mezzanotte infatti divampato un incendio all'interno di un'abitazione ancora da chiarire le cause del rogo all'interno della casa si trovava un'intera famiglia padre madre tre figli di 7 10 18 anni la donna e i figli sono riusciti a scappare immediatamente mettendosi così in salvo il padre un il 57enne ha tentato invece di spegnere le fiamme trattenendosi così all'interno dell'abitazione sul posto sono accorsi vigili del fuoco con due mezzi per domare l'incendio e bonificare la zona spetterà adesso a loro capire quali siano state le cause dell'incendio il rogo si è sviluppato nell'appartamento seminterrato di una palazzina di due piani ha interessato soprattutto la zona soggiorno e cucina ma il fumo si è comunque diffuso anche negli altri locali sul posto anche i sanitari del 118 con un'ambulanza ed un'automeno mamma e i figli sono stati portati in codice verde all'ospedale san donato di arezzo il padre è stato invece trasferito con l'elisoccorso pegaso in codice rosso a pisa ha riportato qualche ussione soprattutto ha respirato fumo sul posto è intervenuta anche la polizia di stato grazie grazie grazie